Il caso è emerso nelle scorse settimane con un uomo di Castelli che da positivo dopo un test in un laboratorio privato aveva seminato il terrore tra il suo paese, Isola del Gran Sasso e Montori Alvomano. Si è scoperto ora che la ASL di Teramo ha chiuso lo studio polispecialistico di Isola del Gran Sasso in cui è stato eseguito quel tampone. Tutto è accaduto a seguito di un'ispezione condotta settimane fa dalla dottoressa Marina Danese del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, sì, espede la ASL di Teramo. Dopo l'ispezione la struttura sanitaria ha sospeso non solo i tamponi ma tutte le attività sanitarie. I nostri ispettori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sono andati e hanno rilevato che c'era una carenza di autorizzazione sanitaria. Tra l'altro non c'era non solo l'autorizzazione all'esercizio ma ancora non avevano avuto nemmeno l'autorizzazione alla realizzazione. E intanto però eseguivano tamponi. Eseguivano tamponi ma eseguivano anche esami, visite ambulatoriali. Era un centro dove si faceva più di un'attività ma nessuna di queste attività era autorizzata ai sensi della legge regionale 32 del 2007. Non sono in regola sul nulla? Non erano in regola. Anche se dobbiamo dire la verità, i nostri ispettori non hanno visto carenze strutturali di rilievo. La struttura in quanto tale era apposta ma non era autorizzata. E' come se tu acquisti una macchina che è omologata ma non la targhi, non la sicuri, non fai tutto.